buongiorno a tutti partiamo subito con le notiziole del gigione le call news poi naturalmente vi ricordo questa sera l'appuntamento con la diretta del gigione in cui l'argomento principale sarà ahimè la malattia del secolo bisogna purtroppo dirlo in questo momento questa nuova malattia che sta arrivando di cui stasera voglio creare un bel dipattito perché sto sentendo tantissime opinioni discordanti e quindi voglio sentire proprio tra i miei follower cosa ne pensano eccetera eccetera e perché io e il pronosticatore ne stiamo già parlando da un po di tempo e quindi voglio sentire anche altre persone voglio sentire un po tutti quindi ne parleremo stasera ma adesso andiamo alle notizie del passato del passato di un mesetto fa ecco per intenderci la prima è un ricordo di di uno sceneggiato che fece storia 6 gennaio 1976 ahimè come direbbe carlo conti io c'ero 44 anni fa la prima puntata di sandokan la serie che ha fatto sognare una generazione segnando per sempre la storia della tv sono passati 44 anni dalla prima messa in onda del celeberrimo sceneggiato sandokan diretto da sergio sollima interpretato da cabir bedi philippe leroy carol andrè andrea giordana e adolfo cieli è tratto dai romanzi del ciclo indomalese di emilio salgari o salgari la sceneggiatura si ispira in buona parte ai libri le tigri di monprecen e i pirati della malesia così 44 anni fa debuttava il perata più famoso della televisione oggi forse contrastato solo da jack sparrow diciamocelo diciamocelo la tv nel 1966 non era sto granché soprattutto per un adolescente due canali e poco d'altro tutti ad aspettare lo show del sabato sera la fission della domenica il quiz al giovedì e il film al lunedì che tristezza quindi cari ragazzi che adesso avete tutto pensate noi cosa ci dovevamo accontentare e non avevamo né internet né niente la bomba sandokan esplode il 6 gennaio 76 e fu un'esplosione nucleare prima serata rai 27 milioni di spettatori adesso quando ne fanno dieci fanno i salti mortali di milioni di spettatori rivisto oggi quel capolavoro che ci tenne attaccati alla tv fa un po tenerezza all'epoca era una produzione pesante il regista sergio sollima sollima era di prima fascia il cast era stellare camir medi era era un super attore indiano oggi ci avrebbero rifilato beppe fiorello poi philippe leroy adolfo cieli andrea giordana e rullo di tamburi carol andrè nato polona la perla di lawan sei puntati da 60 minuti che fecero un gran rumore nacquero mode soprannomi parodie e soprattutto un sequel cinematografico l'anno successivo sandokan la tigra ancora viva con sollima la regia e lo stesso cast la sigla fu affidata agli oliver honions cioè guido e maurizio de angelis quelli di terence e bud che fecero il botto sparandola in beta a quella che allora si chiamava it parade 45 giri dischi veri venduti sul serio i critici ovviamente fecero la bocca storta ma la cosa a noi ragazzi dell'epoca non ci toccò minimamente uno sti cazzi li seppellì pomposamente e via a rivederlo oggi quel sandokan dicevamo fa un po tenerezza la recitazione è di primo ordine anche se un po semplice come d'uso oltre 40 anni fa la regia tiene zero digitale ma questo è ovvio come ovvio che il 4k è lontano anni luce la scena del salto della tigre non è proprio impeccabile però vuoi mettere le emozioni che questa serie riporta alla mente a noi adolescenti dell'epoca bene un po di amarcor ci voleva e veniamo alla seconda notizia bellissimo sandokan che adesso rivederlo fa sempre fa sempre piacere ecco per intenderci veniamo alla notizia curiosa che farà piacere a molti ragazzi che magari hanno i genitori che continuano a metterli metterle foto su instagram o su facebook o su quello che volete e magari ai ragazzi non è che faccia tanto piacere che i genitori gli mettano le foto su quindi questa sentenza che fa giurisprudenza ricordo potrebbe essere utile vediamo di che cosa si tratta foto dei figli minorenni sui social attenzione si rischiano multe fino a 10.000 euro si torna a parlare della questione relativa alle fotografie dei figli minori che i genitori postano sui social network questa volta a parlare però il tribunale di roma questo stabilisce che i genitori che vorranno pubblicare le fotografie dei propri figli sui social network potrebbero andare incontro a una multa non è la prima volta che i giudici condannano i genitori a rimuovere le immagini dei propri figli minorenni questa volta però la decisione del giudice pare sia piuttosto seria perché nel caso in cui non venga rispettato i genitori dovranno sborsare una cifra piuttosto esosa si parla infatti di una multa di importo fino a 10.000 euro il tribunale di roma con un'ordinanza del 23 dicembre 2017 stabilisce questo pare sia intervenuto in merito ad una questione che vede protagonista un ragazzino di 16 anni beh ragazzino di 16 anni un ragazzo dai ragazzo sono ragazzi ragazzino no va ancora alle medie come vanno alle superiori sono ragazzi pare abbia chiesto personalmente di essere tutelato contro la madre colpevole di aver postato sul web fotografie e commenti su su di lui si tratta di un precedente unico nel nostro paese che però sancisce fortemente il diritto alla tutela dei minori nonostante tutto nel nostro paese sono state tante le occasioni in cui i genitori sono stati costretti a disattivare i profili social dei figli o a rimuovere le fotografie pubblicate nelle proprie pagine social e persino su whatsapp la madre in questione dunque adesso dovrà rimuovere tutte le fotografie post con protagonista al 16enne dovrà anche impegnarsi nel non commettere più lo stesso errore per non essere sanzionata a livello pecuniario l'inserimento di foto di minori sui social network costituisce comportamento potenzialmente pregiudizievole per essi in quanto ciò determina la diffusione delle immagini fra un numero indeterminato di persone conosciute e non le quali possono essere malintenzionate avvicinarsi ai bambini scrive il giudice il ragazzo in questione sembra che da tempo sia in conflitto con la madre quest'ultima in seguito alla separazione dal padre pare abbia cominciato a postare in modo molto frequente quasi compulsivo fotografie del figlio inoltre pare postasse racconti riguardante la loro situazione familiare nello specifico sembra che la donna si sia concentrata sulla vita del figlio accusandola anche di essere un malato mentale in alcuni casi l'avrebbe anche chiamato assassino alla madonna per questa ragione il giovane ha deciso di rivolgersi al giudice chiedendo la possibilità di poter andare all'estero e proseguire gli studi più nello specifico negli stati uniti per stare anche lontano da quel contesto sociale che ormai sapeva tutto della sua vita privata per colpa della madre la massiccia presenza mediatica della vicenda del minore giustifica il turbamento dello stesso la resistenza a proseguire gli studi in un contesto nel quale particolare nel quale particolari della propria vita personale sono ampiamente noti e questo quanto scrivono i giudici nella sentenza depositata lo scorso 23 dicembre il giudice si è rifatto ad articolo 96 della legge sul diritto d'autore questo prevede che il ritratto di una persona non può essere esposto senza il suo consenso salvo alcune eccezioni inoltre il giudice si è anche avvalso dell'articolo 16 della convenzione sui diritti del fanciullo approvata nel 1989 questa rappresenta ad oggi una tutela rafforzata per i minori soltanto qualche mese fa il tribunale di mantova si è espresso sull'argomento tutela minori in quell'occasione una madre ha rimosso le foto del figli pubblicate il motivo sembra che il padre non era d'accordo bene detto questo io vi saluto vi ringrazio fatemi sapere voi come vi comportate sono qualche amico che qualche mio follower che ha i genitori che ogni due per te postano la foto del figlio guardate mio figlio cosa ha fatto guardate mio figlio cosa ha fatto guardate mio figlio cosa ha fatto oppure vanno anche a raccontare questioni un attimino più private eccetera io ricordo mia madre ogni tanto se ne usciva con qualche cosa che era meglio teneva si tenesse per sé o mi chiamava condominio lì che era meglio che evitava di chiamarmi lo sapete ho fatto il video apposta sul puccetto comunque detto questo io vi saluto vi ringrazio allora non c'erano i social e purtroppo mia mamma quei social non non ha mai avuto a che fare perché non ne ha mai voluto sapere fortunatamente almeno in quello non rischiavo però adesso il rischio c'è detto questo io vi saluto vi ringrazio vi aspetto questa sera per la diretta del gigione spero che questo video sia online prima delle 7 7 e mezza vedrò di velocizzarlo eventualmente e ci vediamo alla prossima ciao